All'è ragazzi! All'è Giochi! All'è Giocho! 0,74 di reazione! Ma Gianni è quello in testa? Sì! Gianni sì, è in testa! E chi è davanti? Sta mutando abbastanza bene! Ah, direi di... Sembra uno che sa fuori il dorso! E' anche bene! Vai Giocho! Vai Giocho! Sì, braccia! Sì, superace! È bella la girata! Bravo! L'ha subito perfetto! Mi dai i passaggi? Allora è passato in 31,06! Giorgio è passato in 34, netto! 34! Bella! Bella Giocho! Bella Gianni! Stanno andando bene! Bello, bello, bello! Vai Gianni! Vai Giorgio! Cazzo, Giorgio va forte! Nuota bello quel po', però dovrebbe... Bravo! No, no, va bene, va bene! Un bellissimo scuola! Vai Giorgio! Vai Gianni! 1,470! Bravo! Bravo! 1,919, Giorgio! Bravo! Bravo! Quindi è sesto! Quinto! Sesto punto! Sesto... Sesto. Sesto...